I risultati emersi dall'incontro organizzato nella Sala Pegaso di Palazzo Strossi Sagrati a Firenze sono importanti e significativi perché testimoniano il grande lavoro svolto dai giovani che hanno scelto di fare il servizio civile in pronto soccorso grazie ad un bando della regione toscana. Hanno vissuto un'esperienza unica per un anno nel luogo in cui si era in prima linea, nei pronti soccorsi, quindi tanto più l'apprezzamento da parte mia e la voglia di stimolare i giovani a fare la scelta volontaria del servizio civile. Noi finora ne facciamo 3.000 ma siamo disposti a farne tanti altri. Le ragazze e i ragazzi in questi 12 mesi si sono dati da fare non poco e per di più in piena pandemia e negli hub vaccinali, molto attenti nella loro professionalità, possono dire ora di aver svolto un'esperienza importante nella loro formazione e poterla fare in un'azienda sanitaria, mettere se stessi a servizio degli altri a un particolare ricordo che si porteranno dietro tutta la vita. Ho svolto il servizio civile in due parti, prima presso l'ospedale di Santa Maria Annunziata a Ponte Anniccheri in direzione infermieristica e poi all'accoglienza presso l'hub vaccinale Mandela Forum di Firenze. È stata una bella esperienza formativa, un'esperienza che appunto ci ha dato la possibilità di fare gruppo perché io insieme ai miei compagni abbiamo cercato tutti insieme di realizzare un buon lavoro, di realizzare un buon servizio e soprattutto di essere competenti, gentili nei confronti dell'utenza che veniva a vaccinarsi. Un'esperienza davvero difficile che ha dimostrato come le ragazze e ragazze di questa regione davanti alle opportunità sono già il presente di questa terra e non solo il futuro del nostro paese e hanno fatto toccare con mano anche a noi che abbiamo ascoltato le loro esperienze come sono felici di aver contribuito alla lotta al Covid. Si sono sentiti parte di questa comunità, si sono sentiti presenti, si sono sentiti veri e propri cittadini perché con il loro contributo hanno inciso nella vita delle persone che sono entrati all'interno dei pronti soccorsi.